È molto triste per quelli che passeggiano in questa grande città o viaggiano per il paese vedere le vie, le strade, le porte, delle capanne affollate di mendicanti di sesso femminile seguite da tre o quattro o sei bambini, tutti cianciosi, che seccano ogni passante per averle lemosina. Queste madri, invece di poter lavorare per guadagnare onestamente da vivere, devono perdere tutto il loro tempo a girare qua e là per mendicare un pane per i loro figlioli d'erelitti che, quando sono cresciuti, o diventano ladri perché manca il lavoro, ovvero abbandonano la carra terra natia per combattere in Ispania in favore del pretendente o per vendersi come schiavi nelle piccole antille. Credo che tutti siamo d'accordo, dato il deplorevole stato presente di questo regno, nel considerare come un gravissimo peso ulteriore questo enorme numero di bambini in braccio o sulle spalle o alle calcagne delle loro madri e spesso dei loro padri. Quindi, chiunque troverà un modo decoroso, economico e agevole di far sì che questi bambini divengano membri sani e utili della società, veriterà tanta pubblica riconoscenza che si dovrebbe erigergli una statua come salvatore della patria. Ma io non vorrei provvedere soltanto ai figlioli dei mendicanti abituali. Il mio progetto è molto più esteso e riguarda tutti i bambini di una certa età nati da genitori che non sono in grado di mantenerli, più che non lo siano quelli che ci domandano l'elemosina per le strade. Per conto mio, dopo aver meditato per molti anni sull'importante problema e dopo aver ponderato le diverse proposte dei nostri progettisti, ho trovato che i loro conti sono sempre sbagliati. È certo che un bambino appena figliato dalla femmina può essere mantenuto con il latte di questa per un anno solare senza quasi altro nutrimento. Questo costerà al più due scellini e la madre può certo ottenere questa somma, o un valore equivalente di rimasugli, con la sua occupazione legale di mendicante. Ed è proprio all'età di un anno tentendo provvedere per essi in tal modo che invece di essere di peso ai loro genitori o alla parrocchia e di avere bisogno di cibo e di vestiti per il resto della vita, contribuiscono invece a nutrire e in parte a vestire molte migliaia di cittadini. Il mio progetto ha anche un altro grande vantaggio. Esso eviterà quei procurati aborti e quella pratica orribile, che è, oimè, anche troppo frequente fra le nostre donne, di trucidare i loro bastardi, sacrificando quei poveri innocenti per evitare, credo, piuttosto la spesa che la vergogna, pratica che deve suscitare lacrime e pietà anche nell'animo più selvaggio e disumano. Si calcola di solito che questo regno abbia un milione e mezzo di anime e tra questi io stimo che ci siano circa 200.000 coppie nelle quali la moglie è feconda. Da questo numero sottraggo 30.000 coppie che possono mantenere i loro figliuoli, per quanto io tema che non ce ne siano tante, date le triste condizioni attuali del paese, ma anche concedendo questo rimarranno 170.000 riproduttrici. Sottraggo ancora 50.000 per quelle donne che abortiscono o i bambini delle quali muoiono per accidente o malattia entro l'anno. Restano così soltanto 120.000 figliuoli di poveri nati ogni anno. E ora la questione è come potrà questo numero venire allevato e mantenuto? Questo, come ho già detto, data la situazione presente, è assolutamente impossibile farlo con uno dei metodi finora proposti. Non possiamo infatti impiegarli nei mestieri o nell'agricoltura perché qui non si costruiscono case, si intende in campagna, nella terra vien coltivata. Prima di sei anni è molto raro che essi siano in grado di procurarsi da vivere rubando, a meno che non siano molto precoci, menché debba riconoscere che essi cominciano già molto prima a imparare. Ma durante questo periodo non possono venire considerati che come apprendisti, come mi ha detto una persona molto importante nella contea di Kavan, assicurandomi di non aver sentito parlare che di un caso o due sotto i sei anni, anche in una parte del regno rinomata come quella per la rapidità con la quale si diventa abili in tale arte. I nostri commercianti mi assicurano che un ragazzo o una ragazza sotto i dodici anni non è mercanzia vendibile e anche quando arrivano a questa età non sono quotati più di tre sterline o al massimo tre sterline e mezza corona. Questo non basta a remunerare i genitori e il paese perché la spesa per il nutrimento per i cenci ha raggiunto almeno il quadruplo di questa somma. Quindi presenterò ora, modestamente, le mie idee che non credo possano essere oggetto della minima obiezione. Un americano molto pratico che ho conosciuto a Londra mi ha assicurato che all'età di un anno un bimbo piccolo, sano e ben curato è un cibo estremamente delizioso, nutriente e salubre, tanto in stufato che arrosto, tanto al forno che alesso e sono certo che sarà altrettanto buono in fricassé o come spezzatino. Sottopongo quindi alla pubblica opinione la proposta è di riservare dei 120.000 bambini già calcolati 20.000 per la riproduzione, un quarto solo di essi maschi, percentuale maggiore di quella che si osserva per le pecore, per i buoi e per i maiali per la ragione che questi bambini sono ben di rado frutto di matrimonio, sacramento non molto rispettato nei nostri villaggi e quindi un maschio basterà per servire a quattro femmine. I 100.000 che restano dovrebbero, a un anno, venire offerti in vendita ai nobili e ai ricchi di tutto il regno, consigliando sempre alla madre di lasciargli suggere abbondantemente nell'ultimo mese in modo da renderli grassi e ben nutriti per farne un buon piatto. Con un bambino si potranno fare due piatti o un pranzo modesto fra amici. E quando la famiglia mangia da sola, i quarti davanti o quelli di dietro basteranno per un piatto modesto e conditi con un po' di pepe o di sale saranno molto buoni bolliti dopo quattro giorni, specialmente d'inverno. Ho calcolato che in media un bambino appena nato pesa circa 12 libre e che in un anno solare, se nutrito passabilmente, cresce fino a 28 libre. Riconosco che questo cibo sarà un po' caro e quindi molto adatto per i proprietari di terre che avendo ormai divorato quasi del tutto i genitori hanno già un buon titolo per mangiarsi anche i figlioli. La carne di bambino sarà di stagione tutto l'anno ma sarà più abbondante in marzo e un poco prima e dopo perché un autore serio, eminente medico francese, mi dice che essendo il pesce un cibo prolifico nei paesi cattolici nascono più bambini circa nove mesi dopo la quaresima che nelle altre stagioni. Quindi, un anno dopo la quaresima, i mercati saranno più congestionati del solito perché la percentuale di bambini papalini è almeno da 3 a 1 in questo regno e quindi vi sarà l'altro vantaggio collaterale di diminuire fra noi il numero dei papisti. Ho già calcolato che la spesa per nutrire un bambino di mendicante e fra i mendicanti conto tutti i contadini, i braccianti e i quattro quinti dei piccoli proprietari è di circa due scellini l'anno compresi i cenci e credo che nessun gentilbomo si lamenterà di pagare 10 scellini per un buon bambino grasso a peso morto che, come ho detto, basterà per quattro piatti di ottima carne nutriente quando egli desinerà con qualche amico intimo soltanto o con la famiglia. Così il grande proprietario imparerà ad essere un buon padrone e diventerà popolare fra i suoi fittavoli. La madre avrà otto scellini di profitto netto e sarà alta al lavoro finché non produca un altro bambino. Quelli che sono più economici e devo riconoscere che i tempi lo esigono potranno scuoiare la carognetta e con la pelle ben conciata si potranno fare magnifici guanti per le signore e scarpe leggere da estate per i signori eleganti. Quanto alla nostra città di Dublino si potranno fissare banchi da macellaio nei quartieri più opportuni e possiamo star sicuri che non mancheranno i beccai per quanto io raccomanderei di comprare i bambini vivi e poi di prepararli per la cottura appena sgozzati come facciamo con i porcellini da arrostire. Una persona molto stimabile che ama davvero il suo paese e stima molto per le sue virtù si compiacque in questi giorni discutendo la questione di proporre un perfezionamento del mio progetto e gli diceva che poiché molti gentiluomini di questo regno hanno finito per sterminare tutti i greggi di cervi e di daini e gli pensava che si potesse rimediare alla mancanza di cacciagione con i corpi di giovani ragazzi e ragazze e non più di 14 nemmeno di 12 anni perché vi è un così gran numero di individui dei due sessi che sono ora in procinti di morire di media per mancanza di lavoro e di utilità e questi dovrebbero venire venduti dai loro genitori se ancora vivi ovvero loro parenti più prossimi ma con la debita deferenza per un amico tanto cordiale per un patriota così meritevole non posso condividere senz'altro la sua opinione infatti per ciò che riguarda i maschi il mio conoscente americano mi ha assicurato per ripetuta esperienza che la loro carne non è di solito coriacea e magra come quella dei nostri ragazzi che vanno a scuola perché si muovono di continuo il sapore è sgradevole e ingrassarli non francherebbe la spesa quanto alle femmine sarebbe mi permetto di crederlo una perdita per il pubblico benessere perché anche esse ben presto diventerebbero riproduttrici e poi non è improbabile che qualche persona piena di scrupoli possa disapprovare benché senza ragione questa idea come un pochino tinta di crudeltà cosa che io lo confesso ho sempre considerato come l'obiezione più forte contro qualunque progetto per quanto utile ma devo dire a giustificazione del mio amico che egli mi ha confessato che questo espediente gli era stato suggerito dal famoso Psalmanazar nativo dell'isola di Formosa venuto di là a Londra circa vent'anni fa e conversando raccontò al mio amico che nel suo paese quando qualche persona giovane viene suppriziata il carnefice vendeva la carne a persone altolocate come una primizia e che ai suoi tempi il corpo di una grassa fanciulla di 15 anni che era stata crocefissa per un tentativo di avvelenare l'imperatore era stato venduto al primo ministro di stato di sua maestà imperiale e ad altri grandi mandarini della corte in quarti dalla forca per 400 corone ne davvero posso negare che se ci si servisse nello stesso modo di molte ragazze grasse di questa città che pur senza avere un soldo non escono mai di casa se non in portantina e si presentano nei teatri e nei ritrovi con vestiti e ornamenti stranieri che non pagheranno mai il paese non ne sentirebbe certo grandanno certi pessimisti sono molto preoccupati per il gran numero di poveri decrepiti o ammalati o storpi e mi si è chiesto in che modo si possa liberare la nazione da un peso così gravoso ma questo non mi dà affatto pensiero perché si sa bene che essi vanno morendo e putrefacendosi ogni giorno per il freddo e per la fame e per i sudiciumi e per i parassiti con tutta la rapidità che si può ragionalmente sperare e quanto ai giovani lavoratori essi danno altrettanto bene a sperare essi non riescono a trovare impiego e quindi vanno consumandosi per mancanza di nutrimento a tal punto che quando per caso trovano un po' di lavoro non hanno la forza di farlo e così il paese e loro stessi vengono felicemente liberati da ogni male futuro questa digressione è stata troppo lunga e tornerò quindi ora all'argomento io penso che i vantaggi del progetto da me presentato siano evidenti e molteplici non meno che considerevoli in primo luogo come ho già osservato così verrebbero diminuiti notevolmente i papisti che ogni anno nascono in tal numero da annegarci nella loro folla perché essi sono i principali riproduttori della nazione e al tempo stesso i nostri più pericolosi nemici e restano in patria per essere pronti a consegnare il regno al pretendente approfittando dell'assenza di tanti buoni protestanti che preferiscono abbandonare i paesi piuttosto che stare a casa e pagare le decime contro la loro coscienza a un curato della chiesa episcopale in secondo luogo i poveri fittavoli possiederanno qualcosa di valore che potrà venire legalmente sottoposto a sequestro e pignoramento per il pagamento dell'affitto al proprietario perché il grano e il bestiame che hanno sono già stati sequestrati e il denaro è cosa sconosciuta in terzo luogo poiché il mantenimento di 200.000 bambini da due anni in su non può essere calcolato a meno di 10 scellini l'uno per anno la ricchezza nazionale aumenterà così di 50.000 sterline l'anno oltre al guadagno di un nuovo piatto per la tavola di tutti i benestati del paese che abbiano gusti abbastanza fini il denaro circolerà all'interno del paese poiché produzione e fabbricazione di questa merce saranno interamente autarchici in quarto luogo i riproduttori assidui oltre al guadagno di 8 scellini all'anno per la vendita dei loro bambini saranno liberi dal peso del loro mantenimento dopo il primo anno in quinto luogo questo cibo porterà molto lavoro alle trattorie perché gli osti avranno certo il buon senso di cercare le migliori ricette per cucinarlo perfettamente e quindi i loro locali saranno frequentati da tutti i signori eleganti che giustamente si vantano di essere buon gustai e un cuoco abile che sappia come attirarsi i clienti riuscirà anche a renderlo tanto costoso quanto essi possono desiderare e in sesto luogo questo sarà un grande incentivo al matrimonio al quale tutti i governi saggi hanno incoraggiato con ricompense e forzato con leggi e con pene aumenterebbe la cura e la tenerezza delle mamme verso i loro figliuoli perché sarebbero sicure che i poveri bambini avranno una posizione nella vita procurata in qualche modo dal pubblico con annuo profitto delle prime e spesa annuale di questo vedremmo una sana emulazione fra le donne sposate perché ognuna di esse vorrà portare al mercato il bimbo più grasso i uomini avranno tanta cura delle loro mogli durante la loro gravidanza come ora l'hanno per le cavalle o per le loro vacche o le loro troie quando sono pregne e per paura di un aborto non saranno sempre pronti a prenderle a pugni o a calci come troppo spesso avviene ora si potrebbero numerare molti altri vantaggi per esempio l'aumento di qualche migliaio di capi nella nostra esportazione di bue conservato la diffusione dell'uso della carne di porco è un miglioramento della fabbricazione della buona pancetta fumicata tutte cose delle quali ora si sente molto la necessità per il gran consumo di maiali troppo spesso mangiati alla nostra tavola che non sono assolutamente paragonabili per sapore per aspetto a un bimbo di un anno ben cresciuto e grasso che a rostito intero farà una bellissima figura a un banchetto del podestà o a qualsiasi altra cerimonia pubblica ma non mi soffermo su questo e su molti altri vantaggi perché voglio essere breve a un banchetto del podestà a un banchetto del podestà